Incredibile beffa finale per il Toro che al minuto 89 viene trafitto dal modenese Tamburini. I Colantuono Boys dominano il primo tempo sfidando ripetutamente il vantaggio mentre nel secondo tempo i tentativi Granata si infrangono contro la Maginot Emiliana. Nel primo tempo il portiere modenese Narciso non ha certo il tempo di guardarsi allo specchio perché viene impegnato in continuazione dai giocatori Granata. Prima piona l'insidioso calcio d'angolo di Casbaroni quindi respinge con i pugni l'assistagliato del fantasista Granata. Poi ci pensa la difesa Emiliana a chiudere sulla potente e precisa conclusione di Di Michele. Al sedicesimo asset di Pisano e colpe destra di Bianchi ma Narciso ancora attento. Al ventiduesimo contropiede Granata taglio da sinistra a destra di Gasbaroni per Colombo che aggancia scarica su Di Michele ma è il portiere Emiliano salva in due tempi. Contropiede modenese Catellani elude Zoboli conclude Matteo Seni interviene splendidamente deviando in angolo. Al venticinesimo Bianchi riceve palla elude il suo marcatore ma Narciso è ancora vigile. Al venticinesimo invito di Sassaruno Sereni smanaccia anticipando tutti. La palla finisce a Catellani ma Sereni prima respinge poi anticipa tutti con un grande balzo. Il trovo replica con l'iniziativa di Gasbaroni che innesca Di Michele a lato di pochissimo. E poco dopo sulla posizione del Gas Nediana Di Michele a un passo dalla linea trovano l'impatto con la palla. Occasione incredibile. Ancora Gasbaroni dalla distanza ma Narciso respinge prima del fallaccio di Tamborini su Coppola. L'ultima chance del primo tempo dominato dal torre di Zoboli in mischia di testa. Nel secondo tempo Calderoni rileva Sereni vittima del classico colpo della strega. Al sesto Bianchi inesca un'opportunità di Ana. Narciso si oppone la difesa modenese. Perfezione il disimpegno. Calderoni attento su Sassaruno. Il trovo non trova più il partugio giusto. Al minuto 88 Iuri Tamborini colpisce indisturbato e segna il gol partita. E stavolta il toro non ha più la forza per agire.